Ciao ragazzi, io sono Falconer e oggi sono qua con un nuovo episodio dei Pilasti della Terra per andare ad affrontare il capitolo numero 16 in cui, secondo me, succederanno parecchie cose interessanti per cui non perdiamo tempo e andiamo subito al dunque Casa Quale delle tante? Kingsbridge Sì, Cushie So much is grown, but there are no roots, no herbs What are you looking at, Jonathan? The garden is in disorder I want it to be right again, but I don't know how to do it Before I became prior I thought the same about Kingsbridge E' cresciuto tantissimo il bambino Dunque, strappiamo l'erbacce come prima cosa Yeah Dobbiamo imparare come raccogliarli. Qui, vedete quelle? Sono chiamati wood sorrel. Prendiamo solo quelle per ora. I'll do it. Se vuoi insisti. A presto di prendere tutte le pezze. E ora cosa faccio? Eeeh... Suggerisci di smuovere il terreno? Per le pezze per prendere le pezze, il terreno deve essere lento e fertile. Quindi, posso imparare ora? Si impara anche il giardinaggio. Adesso piantiamo il seme e poi lo innaffiamo. Prendi qui, sarò in giro. Dove va? Mi sa che va a prendere un seme, eh, infatti. Adesso, dove lo mettete? Io non vedo nulla. Ah, qui sono. Io non vedo nulla. Adesso hai detto che vuoi piantare le pezze e creare un nuovo giardino, Lilius. Io credo che è il tempo. Io non vedo nulla. Io non vedo nulla. Io non vedo nulla. Io non vedo nulla. No vedo nulla. È bello, che mi ha detto anche questa. Wow. Oh. Ora, abbiamo bisogno di aspettare. Bello. Magari un filo d'acqua Non c'è abbastanza, Jonathan. C'è appare il modo per le cose che prendono il loro passaggio. Ci stanno succedendo ora. E in qualche giornata, noi dovremo tornare e vedere il primo grigio di qualcosa di nuovo. Oh. E' l'agenda di Dio? Probabilmente. L'agenda di cose crescere? Tu l'hai fatto. No, ho solo plantato la sede. Sono felice di innaffiare il seno. Ora puoi prendere un po' di acqua dalla barrile. Ma l'acqua è buona. L'acqua è l'acqua. Ci sono molti bambini al rio. Credo che l'acqua è meglio. L'acqua è l'acqua. E' una lunga walk, però. Non mi preoccupare. La distanza è valuta. Magari sei certo. È valuta. Allora andiamo insieme. Allora andiamo. Ma io prenderò il sacco. E' un po' lenta questa parte. Forse troppo. Nonostante il dialogo nasconda un mondo ma... nonostante. E' un po' lenta. E' un po' lenta. che sta in ruine. Ma tutto questo, questi tempi morti, hanno rivelato qualcosa di importante per noi. Algo che, magari, fino ad oggi, non ero consciente. Cosa vuoi dire? Sostieni che a loro non serve una chiesa. Tu hai stato pregato in queste ruine. Ma tu hai stato pregato come sempre ti hai fatto. In humbleness. Non abbiamo bisogno di una città per una pregata. A dove andremo a pregare? Il capito di casa? La città è dove il Dio risiede. Dio non funziona in modo che possiamo pensare. Oggi, Jonathan tende a la nostra città, per farlo più bello. E mi ha detto delle cose che ho quasi ho scoperto. Le buono e le buono non sono in qui o in qui. O in qui. Sono dentro di noi. Sostieni che l'uomo è... sicuramente meglio di questa è. Sostieni che l'uomo è... sicuramente meglio di questa è. che l'uomo è... Ma abbiamo visto che l'uomo può avere il Dio in il suo cuore. Ma l'uomo è anche l'uomo. potremmo è una domino speciale, per noi siamo la città, in nostro atteggiamento che è una città. Nessun rispetto a Dio... siamo il tempi di Dio. Philip, guarda fuori! Tu devi vederli! Tu devi vedere i bambini! E i colori! Jonathan! Ora, cosa sta succedendo? Ho avuto ruoli e andavo a guardare! Calma, cosa è successo? Ma il prezzo ha detto che hanno portato un miracolo! Chi? Cosa? Cosa priest? Step right up, brothers and sisters! For you are about to see something that will change your life! Who is that? They brought us a miracle! A miracle? Don't be shy! There is no danger, just awe that awaits you here! Ah! You must be prior Philip! I am brother Reynolds! I have been sent by the Archbishop of Canterbury! Here is his letter! In case you have reasonable doubts! A me sa un po' di buffoncello! È una mia impressione! Soprattutto considerando il cavallo vestito da cammello! Philip di Kingsbridge! Philip di Kingsbridge! Ti imploro di accettare la grazia della Madonna piangente dato che lei ha scelto Kingsbridge come suo santuario! Dopo che le voci di un miracolo erano giunte alle mie orecchie ho richiesto di vedere la processione! Poi ho potuto appurarlo con i miei occhi ed è tutto reale! Ho rivendicato il miracolo per l'Inghilterra! E intendevo custodire la Madonna Winchester! I guardiani della Madonna mi hanno convinto diversamente! Sono venuti in Inghilterra solo per supportare la ricostruzione di Kingsbridge! Alla mia benedizione Philip di Kingsbridge! Mi aspetto che tu ridia al tuo priorato un aspetto degno della Santa Madonna! Teobaldo! Arcivescobo di Canterbury! Ma sono... sono Jack e... e aliena! Sono... Sono... Gli On her travel from far away Africa, she has collected donations to reward Kingsbridge for your faith in her and in the Lord. I can't believe this. What is all this? You do believe. That is why she came. And that is why you shall witness her miracle for yourself today. The weeping Madonna came to me in a faraway land named Africa. A baptised Saracen was her former guardian. And I and the custodians of the Holy Virgin were chosen to take her on a journey. Baptised? A Saracen. I knew not her powers or destination. Please tell us more. Of course. My words shall prepare you for the sight of the Holy Madonna. Many bore witness to her miracle before it dawned upon me. But where? It came to me in a dream. It was Kingsbridge. Er, excuse me. Don't interrupt. But I wondered. What shrine should be her shelter? This time it was the Madonna herself who answered my questions. She said, You shall build me a new church in Kingsbridge. So we set off with the blessing of Archbishop Theobald of Canterbury. And along the road. From Paris. Across Normandy. Over the sea. And all the way to Kingsbridge. Bene. Ehi! Shh! The Weeping Madonna has chosen you. All of you. I will tell you again. Dear brothers and sisters. Ma basta così. The Weeping Madonna has chosen you. All of you. You must be thinking. How can he be so sure? In the beginning I was not. I only had my faith. I knew not her powers or destination. Never the less. I carried her for many miles. You must wonder. Why was Kingsbridge chosen to be the home of the Holy Virgin? She said. You must build me a new church in Kingsbridge. So we set off with the blessing of Archbishop Theobald of Canterbury. I could have continued to carry her from town to town until my flesh succumbed. But this was not her will. What country did you say you came from? We have traveled all the way from a place of of wonders too marvelous to behold. The far away land of Africa. Africa has many countries I've heard. Yes it does. I will tell you again. Dear brothers and sisters. Come è l'Africa? What's it like in Africa? The sun is always shining and miracles happen every day. It's a land of great deserts, fig trees and creatures that an Englishman can't even dream up. Like these horses. Are they horses? They are not. To you they might resemble horses. But the name the Africans have for these creatures is impossible to pronounce. Even for me. Now, brothers and sisters. I have heard that life has not been kind to Kingsbridge. You mentioned there were fig trees in Africa. What are they? It's a fruit, of course. It looks like a strawberry and tastes like a pear. The scripture mentions these figs and they sound nothing like that. Why is that? No two apples look or taste alike. The same goes for figs and double is so. I'm getting the impression that this man has never even been to Africa. But why would he lie? Hmm. In the beginning I was not. I only knew not. That's not fit for a shrine. E credo che c'è qualcuno che sta sbattendo là Strangelo Ma come uno che russa dentro? Ehm, dunque... Non so dove sbattere la testa qua Potere copertura... Vabbè, direi che allontaniamoci dal retro L'esame nella parte anteriore ce l'avevamo prima, pubblico Strati animali Ma c'è un bambino È il figlio di... Di aliena Jack Eh... Dunque, chiedi al bambino se vuole vedere il miracolo Chiedi al bambino il suo nome Ehm... Nel senso... Rindì Nel senso... 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 Voi... Nel senso... Lai... Nel senso... Dada... Ne? Nel senso... o qualcosa tra queste luci. Ma... come? Pensavamo che era il momento di dare Tommy a casa. Il ragazzo? Il tuo ragazzo? Beh, Philip? Riconosci il tuo? Il nostro piccolo Tommy? Tommy? Ma... Dove sei stato? Ci sono quasi tre anni dopo che ci vedo, Jack. Dove hai trovato lui? Ho quasi scoperto cercando lui. Poi Tommy ha trovato lui. E tu hai deciso di tornare? Questo è il nostro casa, dopo tutto. Poi... cosa c'è tutto questo? Questo... miracolo? Con la Madonna, abbiamo potuto scoprire donazioni... per la vostra priore... e per la King's Bridge. Sì? Possiamo iniziare un nuovo. Possiamo riempire la città. Qual è il caso? Sì, potrei essere la città. Perché? Ho studiato le città, le città e le città che stanno in Francia e in Spagna. Ho visto come diverse le loro construcioni sono. Con nuove forme, colori e idei. Oh, tu dovresti aver visto, hanno combinato le città e le arci. Voglio fare questo. Questo è il motivo. Perché? Perché questo è casa. che non è la città. Ehm... condanna il loro budget? Anche no. Metto in dubbio che i soldi passino. Mi pare la cosa più sensata, forse. Ehm... Jack... Ehm... 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 di voi. Sì, è ancora qui. Ton's wife. Oh... No. Martha e io le passiamo a Kingsbridge. Ella è con Ton adesso. L'ho sempre chiesto. Ellen, abbiamo trovato la famiglia di Jack. In Cherbourg. Il posto che veniva non era Cherbourg, era Cherbourg. Sì? Sì? Cosa erano? Sono buoni. La mia madre dice che Jack era proprio come lui, come suo padre. Si. Ma... Ma non venivano per lui, o chiamavano per lui. Si pensavano che era morto. Il suo barco è piaciuto. ha sempre chiesto di andare in England. Hai mai chiesto di il bambino? Uh... No. La sua famiglia è morta. Ma mio padre era lì. L'unico che è successo. Ah. Ah... 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 Ma non ero ancora nascita. Il fu fuori alla gallowsa, tutti era quieto. La gente c'era un po' che non era un uomo. Ma io c'era sicuramente. Mi ha detto. Era così freddo. Non voleva morire. Non voleva morire. E io ho chiesto. E io ho chiesto suo seguito. Quiet. Mamma mia. Non mi mostro che mi mostro. Non mi mostro. La te dimenticare! E tutti di voi! Voi tornerai a te perdere! Un giorno, sarai dovuto essere giudati per quello che hai fatto. Voi i nostri casi saranno consumi con la foglia! Voi i nostri vita finire in pezzi e agonata! Voi cresci in tristeza e pezzi! Adesso si spiega... Si spiega la morte del... Quando è crollata la prima chiesa Come come our new prior Remigius He helped to recover the bones of the saint of Kingsbridge Adolphus From the hands of thieves Adolphus already rests safely in this great cathedral of Shiring Our master builder Alfred promised me That it will only be a matter of a few years Until the cathedral will be finished And the Earl of Shiring has promised to support us But he has not done so for himself No, the Earl is not a selfish man His mother, Lady Hamley, is sick More and more I feel the whole of England is suffering from a sickness The sickness of war, poverty, and most of all, heathen beliefs I have spoken to God I asked Him, begged Him to walk amongst us, to heal us But God told me that only when this great cathedral is finished Will He have a temple to reside in No matter the cost, this shall be a towering castle To protect us from evil and false beliefs With this cathedral, we will bring an end to the dark times Waeloran by God Jack? What are you doing here? My father died by your hands, Waeloran His name was Jacques Cherbourg How dare you talk to the bishop like that? He died right here Who are you? I know that man He's that bastard from Kingsbridge That man is my husband You? All of you, listen to what we have to say From now on, Kingsbridge is protected By our knights, by our walls, and by the word of the king So whatever you do, we will defend our town, our market and fulling mills And our cathedral, which we shall rebuild All workers are invited to come and work for us Oh, preposterous If you so much as try to bring harm to us, bishop We will make sure that you pay for everything you did Finalmente gliel'hanno detto Ah, ecco In maniera chiara e inequivocabile Allora, hai aiutato Jonathan a piantare un nuovo albero Hai tenuto il tuo primo sermone dopo lungo tempo Hai approvato l'inganno della Madonna Purché desse speranza alla gente Alien e Jack sono tornati a Kingsbridge Bene Io direi che qua possiamo chiudere il capitolo 16 E niente ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate Vi do appuntamento alla prossima In cui andremo a vedere un po' cosa accadrà nel 17 Ciao ragazzi Birgit Alfonso Alfonso Grazie a tutti.